Emilia, sette anni dopo, 2012, 2019 ma anche 2020, visto che ormai noi andremo in onda anche nel 2020 con questo servizio. Siamo venuti a testare da vicino la ricostruzione, il riavvio delle attività sociali, commerciali, economiche, ma anche tutto quello che è l'agglomerato urbano che è rinato dopo quelle due pesanti scosse di terremoto del maggio del 2012. Una di 6.1 il 20 maggio, l'altra il 29 maggio di 5.9. Le zone sono queste, noi ci troviamo qui a Camposanto, Medolla, Finale Emilia, Mirandola e anche altri comuni di quest'area a nord-est di Modena. Cominciamo il nostro tour all'interno di tutta quanta l'area industriale dell'Alto Modenese colpita dal sisma. Qui ci troviamo all'interno di un capannone, uno dei tanti capannone di un'area industriale che produce specialità alimentare, menù. Siamo a Medolla, incontriamo il funzionario amministrativo che è il signor Alfredo Barbieri. Siamo dietro queste lattine, quindi voi producete derrate alimentari di altissima qualità. Sì, produciamo specialità alimentari che per lo più vengono distribuite appunto presso i ristoratori, presso la cosiddetta ristorazione commerciale. Abbiamo un po' di prodotti che vanno anche in grande distribuzione, ma per lo più sono prodotti appunto pensati e funzionali alle cucine di ristorazione, presso cui sempre più si consumono i pasti abitualmente, che sia a mezzogiorno che sia a sera. Quindi ristoranti, pizzerie, alberghi e qualsiasi altro locale di codesta tipologia. Questo per introdurre la sua azienda. Abbiamo visto che è stata ricostruita a tempo di record con fatture antisismiche che prevedono anche l'immissione linea per quanto riguarda, ecco qui adesso c'è un carrello, sentite il rumore, ma stiamo in piena operatività. Dicevo questa realtà, questa immissione linea del soffitto è con caratteristiche antisismiche tra le più moderne, ma quello che colpisce è stata la rapidità nella quale voi siete riusciti a ricomporre, a rilanciare questa grande attività. Sì, in effetti, vista la tipologia anche di mercato che noi frequentiamo, destinatario dei nostri prodotti, purtroppo lunghi stoppe avrebbero causato dei ritardi che magari sarebbero stati anche incolmabili. Fortuna vuole che, diciamo, l'azienda è un'azienda all'epoca, 2012, 29 maggio, un'azienda a Florida, un'azienda che nel volgere di 24 ore ha deciso comunque di intervenire sul sito, un intervento che è stato praticamente radicale perché si è apportato alla ricostruzione di circa 40.000 metri quadri di superficie. 40.000 metri quadri, ha detto, e lo capiamo benissimo perché già ci siamo spostati in un'altra area diametralmente opposta a quella dove eravamo prima, sempre baratto lì dietro con tante pietanze, tante derrate alimentari, definite tra le migliori nel mondo. E quindi questa costruzione che è stata fatta in base a criteri antisismici assolutamente avveniristici, moderni. Certo, la soluzione della copertura in legno, oltre che a rispondere a un'esigenza di meno peso che vai a dare sui pilastri e sulle fondazioni, che mi sembra sia un terzo rispetto al peso dato dal cemento armato, praticamente ha consentito anche dal punto di vista della rapidità della ricostruzione di accelerare, di poter accelerare. Noi appunto avevamo bisogno di rimetterci in movimento produttivo in fretta perché appunto il mercato non attende e mentre da un lato si andava a consolidare fondamenta, pilastri, dall'altro venivano assemblati questi moduli negli circostanti e adiacenti terreni che poi sono stati issati, già formulati, già definiti sopra i pilastri. Questo ha portato una certa velocità, tant'è che sisma 29 maggio del 2012. Noi abbiamo fatto la campagna pomodoro che normalmente avviene ad agosto, nel 2013 l'abbiamo potuta rifare. Esattamente un anno dopo. Un anno e qualche mese dopo. Questo è un grande risultato. Sì, in effetti c'è stato uno sforzo molto intenso da parte ovviamente della proprietà, da parte delle imprese e da parte degli stessi dipendenti e si è cercato proprio di prodigarci perché si potesse ripartire al più presto. Nel 2014, quindi poi circa 5-6 mesi dopo, è entrato in funzione anche il magazzino automatizzato che abbiamo dislocato rispetto alla posizione originaria, ricostruendolo più alto con più posti pallet. Anche questa è una costruzione un po' avvenieristica, unica campata, traslo, sistema di immagazzinamento automatico che insomma nelle aziende moderne in cui hai rotazione, self-life, la computerizzazione di queste situazioni ti consente un controllo e una risposta maggiore quando devi cercare i prodotti, quando devi mandare via. Avevate ovviamente un tecnico a disposizione, un progettista che ha ricreato questa struttura e l'avete sottoposta a quelle che sono le maestranze regionali che hanno ovviamente approvato sia dal punto di vista della sicurezza antisismica che di chi lavora qui. Senz'altro ci sono state diverse imprese, direi sostanzialmente due, abbiamo avuto diversi tecnici e sicuramente il tutto con progetti portati all'attenzione della regione per cui poi successivamente è stato erogato il contributo ma vorrei stolineare che la ripresa così veloce è perché a prescindere dall'ordinanza prima che stabilisse il contributo che è uscita ad ottobre se non ricordo mai del 2012, noi il 30 maggio si era deciso la proprietà di ripartire, quindi avevamo una copertura assicurativa, le spalle erano sufficientemente robuste e comunque ci si è messi per strada subito. Non a caso siete una delle aziende più famose al mondo, l'abbiamo definita tale, quindi come tante che sono qui non soltanto del settore alimentare, del settore tecnologico ma anche biomedico. Sì, diciamo che la nostra è un'azienda leader in questo tipo di mercato che dico è quella della ristorazione commerciale e serviamo, diciamo in Italia abbiamo una presenza direi quasi capillare ma al di fuori dell'Italia andiamo negli Stati Uniti, si va in Giappone, si va in Europa, anche in Europa abbiamo una rete vendita perché noi in Italia vendiamo comunque attraverso oltre 300 agenti di commercio che visitano gli operatori della ristorazione commerciale. La rete è in testa, quanti dipendenti avete voi della menu? I dipendenti sono più di 250. Non sono neanche tanti rispetto a… No, perché poi c'è una variabilità di stagionali proprio perché facciamo delle lavorazioni, le campagne che sono lavorazioni stagionali. ma anche sì, effettivamente anche perché anche nel settore alimentare diciamo così la capacità di automatizzare i macchinari, gli investimenti, gli impianti che in questa azienda insomma è un aspetto molto importante, prioritario, cioè viene perpetuato per cui sì, non c'è bisogno di una forza lavoro, è chiaro che puoi trovare aziende dove fai tutto manualmente, che non so lavorarti i carciofi hanno bisogno, non so di… Ma non a caso ci siamo trasferiti qui perché sentiamo proprio i rumori dei macchinari che fanno scorrere, vedo file di barattoli di metallo, di latta che stanno scorrendo. Ma propriamente è un magazzino, come vede non c'è un'attività produttiva vera e propria che avviene sulla nostra destra. Ci dovevamo mettere in costume lì e quindi abbiamo evitato. Esatto, soprattutto sì, anche perché poi sai entrare in fabbrica i nostri tecnici sono sempre particolarmente… Severi. Giustamente severi e quindi norme di anticontaminazione qua e là… La televisione è contaminante, anche se fortunatamente divulga almeno la nostra. Noi la ringraziamo molto signor Barbieri per la disamina che ci ha fatto sui metodi tecnici, artistici perché vediamo che è stato rifatto anche con grande piglio architettonico, almeno questo magazzino, ma anche gli altri che non abbiamo filmato ma che vedremo in esterno, adesso facendoci accompagnare dal dottor Penza. La ringraziamo molto prima di salutarla, però una battuta. Lei non a caso è vestito in questo modo perché so che lei è un uomo emiliano, ma ha nel DNA questi cromosomi della Louisiana. Lei è un bluesman, vero? Forse sarà perché anche qua viaggiamo in mezzo alle acque, perché dopo il sisma del 2012 abbiamo avuto anche l'alluvione del 2014. Per non farci manchiare niente. Per non farci manchiare niente. E allora sì, noi sarà l'acqua, saranno le zanzare, saranno questi stagni un po' anche un po' putridi a volte, però sì, amiamo il blues, amiamo il jazz e abbiamo anche una componente roccaccia che ci viene dalla giovane età. L'avete mantenuto perfettamente, quindi va bene, con questa realtà proto-musicale, perché parliamo di tanti anni fa, riversati all'oggi del bravo Alfredo Barbieri, che ringraziamo molto per la simpatia, la disponibilità e anche per le... Se ne hai consentito, amo autodefinirmi il bassista prestato all'impresa. Perché no? A volte ci sono imprese prestate ai bassisti e adesso in questo caso ho un bassista prestato all'impresa e questo ci fa veramente piacere. Andrà sempre meglio... Solo menù però come impresa, solo menù, SRL, Medola Modena Italia. Noi ci vediamo in tutta Italia, qualcuno avrà sicuramente carpito quelle che sono le sue qualità, chissà se magari non ci contatterà Renzo Arbore o qualcun altro per inserirla nelle sue band. Grazie tante. Grazie a voi e molto gentili.